ma che costituirmi e costituirti? sei venuto a costituirti? quando hai scippata la vecchia con la collana? quando hai scippata la vecchia americana? ma che scippai? non ho scippata nessuna dove è solito? che c'è sta cosa? no è che nella firma americana ci sta sempre questa parte dell'improvviso come si vengono dico io? ma state pazzi vabbè volevo partecipare sentite basta io mi sono scocciato ma me ne vado vedo dai carabinieri vieni qua vieni qua vieni qua i carabinieri hai detto hai concorrenza hai concorrenza cagliazzo non fai così non lo volevo dire qua abbiamo milioni di clienti che vanno e vengono e che ritornano che si trovano bene tu dici questa cosa fuori posto che non sta bene capito sentite io sono aspetti un attimo dai forza troviamo la pezza a colore dici pure però ricordati no 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 ricordati o dici la verità o dici la verità oppa ma state pazzi vabbè volevo partecipare e dove l'avete persa? con chi l'avete persa? quando l'avete persa? a che ora l'avete persa? ma non lo so l'ho persa e basta l'ho persa persa la cartiglia di là eccolo qua eccolo qua pronto? si sono pronto ho capito tu sei pronto ma pure io sono pronto tu sei pronto perchè sei pronto io sono pronto perchè ho risposto ma come si fa un centrodinistico a fare il c***o pronto? come si fa? ma quello è il portafoglio migliore è il portafoglio migliore meno male mi sento risallevato ma guardate a me quando mi capitano queste cose io mi abbatto non possedete una macchina o un'auto? no ce l'ho la macchina e beh chi ha la guida questa macchina scusate la macchina la guida mia moglie tu fai guidare la macchina a tua moglie sentite sarà come dite voi ma quando guida la macchina mia moglie a me mi piace va beh ma qua bisogna trovare una soluzione vediamo un poco ecco ma vi do un consiglio aspettate sare calvo sentite l'ha ascoltato il brigadier coppola e comombate perchè quanto è bella ma no portafoglio mio vi do il consiglio voi fate una cosa poi scrivete una bella scuola guida pratica no? fate tutti i documenti fra tre mesi vi rilasciano la patente quando voi avete la patente venite qua poi presentate la patente e ritirate la vostra carta di testità e se sono bocciato si sicuramente lo boccano a chi se siete bocciate la mamma voi che volete da noi